Allora io domando subito perché sennò dopo me lo scordo, ce l'avete chiesto in più persone, stavamo parlando un po' fuori onda. Più di un telespettatore chiedeva il discorso della non possibilità di pagare le bollette, soprattutto se c'è una persona anziana che ha difficoltà però non è intestatare della bolletta ma lo è magari figlio per cui non c'è il discorso dell'Ise, dell'età, di tutte queste belle cose. Essere e diventare morosi cosa implica? Che rischi ci sono? E se ti possono togliere l'energia, il gas o qualcosa? Quindi risponda direttamente lei autorevolmente. Autorevolmente, allora la linea generale è che un utente o cliente moroso è passibile di sospensione della fornitura, molto semplicemente. Moroso quanto? Allora ci sono dei tempi detatti dell'autorità per l'energia, quindi ci devono essere passati almeno 15-20 giorni dalla scadenza della bolletta. Deve partire un sollecito di pagamento tramite raccomandata con ricecuta di ritorno. Una volta consegnata o compiuta giacenza, dopo 15 giorni l'operatore energetico può sospendere la fornitura. Questa è una regola un po' più ampia rispetto a tutti gli altri servizi di cui siamo abituati, come la telefonia o qualsiasi altro, perché comunque è un bene di primaria necessità sia l'energia elettrica che il gas e quindi i tempi devono essere un po' più lunghi. Notoriamente seguendo con la regola queste scadenze si arriva ad avere almeno tre bollette mensili scadute, a quel punto scatta la sospensione per morosità, se non viene pagato l'intero importo la fornitura non viene riattivata. Ci sono però delle categorie che vengono dette insospendibili, partendo dalle cose più base, se vogliamo immaginare, una scuola elementare non è sospendibile. Una persona disabile che vive in casa e ha bisogno dell'energia elettrica per sopravvivere, fa un'iscrizione tramite il CAF o il comune, viene mandato al distributore locale, anche se l'operatore vuole sospendere per morosità non può sospendere. Questo serve anche nel caso in cui banalmente venisse fatta della manutenzione alla rete elettrica del proprio quartiere o della città in cui viviamo, in cui c'è la segnalazione che non è che possono, come il classico cartello dalle 9 alle 12 viene interrotta l'energia elettrica. Il manutentore deve comunque garantire l'energia elettrica a quella persona disabile o che ha bisogno dell'energia elettrica in casa per sopravvivenza. Non certo per fare la torta con le mele, ma per sopravvivenza sì. Quindi in situazione di estrema difficoltà o di disabilità si può chiedere di essere insospendibili. E sospendibili non vuol dire che non si pagheranno mai le bollette. Diciamo che perlomeno non si avrà la sospensione, si sarà perseguitati da recupero crediti. Questa è un'altra questione. E dopo l'ultima cosa, ne avevamo parlato ancora tanto tempo fa, però si rilaccia questa, è anche una domanda che ci è stata fatta. Se tante volte succede che magari il figlio o la figlia si intestano la bolletta del genitore molto anziano per comodità, così viene pagato in banca, però il genitore avrebbe diritto a delle agevolazioni, perché so che gli oltre, over 70, adesso non mi ricordo, ci sono delle agevolazioni per categorie protette. Se non è intestatario della bolletta non ha diritto? No, non ha diritto, assolutamente. Questo è molto importante da ricordare, perché tanti non hanno presente questo. Cioè anche se è a casa, è residente, ma non ha intestatario della bolletta, niente da fare. No, perché comunque segue il reddito dell'intestatario, un po' come il canonerai che troviamo in bolletta, segue il codice fiscale. Quindi anche mio padre, che sicuramente mi sta vedendo che saluto, che non è giovanissimo, perché se dico anziano si arrabbia, fa 87 quest'anno. Ha complimenti, caspita, lo salutiamo. Ha delle agevolazioni, ma se le utenze fossero intestate a me, che sono il figlio ovviamente, non avrebbe le stesse agevolazioni. Quindi si segue il codice fiscale. Segue il codice, questo tenetelo ben presente, perché è fondamentale, risponde quindi a tante vostre perplessità. La cosa migliore da fare eventualmente è lasciare le utenze intestate al proprio genitore, alla propria madre e eventualmente domiciliare i pagamenti sul conto corrente del figlio. Si può fare. Si può fare, assolutamente. Nel momento in cui si fa il contratto, si mette l'intestatario reale delle utenze di chi usufruisce l'energia. Poi nella domiciliazione bancaria, quindi il pagamento automatico, si mettono i dati del figlio, col codice fiscale, il conto corrente del figlio o della figlia. A quel punto il figlio paga le bollette dei propri genitori in maniera automatica e si riesce ad usufruire di eventuali bonus sociali o altre agevolazioni. Questo è un suggerimento che aiuta moltissime persone a non commettere errori. Allora, andiamo a capire sul supporto delle nostre Suez Drive come è composta la bolletta di energia elettrica. È interessante capirlo perché questo fa luce su tanti aspetti, quindi iniziamo a vedere un po' insieme queste voci che normalmente non sono comprese in un'unica voce, no? Sì, vediamo la prima tabella che è come è composta la bolletta di energia elettrica che è nostro interesse anche come operatori del settore far capire perché molta gente quando vede poi l'importo della bolletta perché ci sono consumi importanti pensano che sia tutto denaro o costi che vanno a favore degli operatori del settore o del gestore. In realtà e qui è molto semplice, molto evidente, la parte destinata al fornitore, al proprio fornitore che sia Enel, Eni, Antenor e quello che è, è la parte in verde e quindi siamo intorno al 40%. Quindi praticamente quello sarebbe l'energia, il valore energia, costa energia? È il valore di, facciamo caso che la bolletta sia da 100 euro, 40 euro sono quelli destinati cioè che vengono gestiti dall'operatore con cui siamo abbonati che utilizzerà ovviamente per pagare la struttura, per pagare i dipendenti e pagare anche l'energia elettrica che acquista e lì nasce il vero margine per noi operatori del settore. Tutto il resto che sono la spesa, la gestione del contatore, oneri di sistema e ovviamente le imposte. Ecco, quello in azzurro piccolina per esempio, IVA e che vale raro? In azzurro, in arancione, in rosso, è tutto denaro che noi facciamo un sostituto di imposta si dice per le imposte. Quindi è una fetta grande perché la nostra punta è il 60%. Esatto, è il denaro che noi incassiamo nel momento in cui il cliente paga e giriamo a chi? Allora, spesa, gestione e trasporto contatore va al distributore di zona che sono banalmente quei furgoncini che vedete per strada che si fermano e che, non so, controllano i contatori, cambiano i contatori, fanno manutenzione sui cavi di energia elettrica. Quindi è un costo passante per noi operatori del settore. Gli oneri di sistema sono stati introdotti per, comunque, è un'altra voce passante, quindi vengono incassati e girati al sistema e sono per lo sviluppo del fotovoltaico, anche per gli energivori e quant'altro. Poi c'è la parte erariale che penso che ci sia poco da dire, che sono l'IVA e le accise che tutti noi conosciamo perché esistono anche sul prezzo della benzina e del gasolio. L'IVA è salita, è scesa, è sempre la stessa? No, in questo caso stiamo parlando di energia elettrica, abbiamo l'IVA al 10% per i residenziali e il 22%, che è quella classica, per tutti gli altri usi. Gli altri usi sono il ristorante, la pizzeria, l'officina, il panificio, il tavaccaio, cioè tutto quello che è intestato a una partita IVA. Un'azienda, sostanzialmente. Mentre il 10% per il residenziale, che è rimasta sempre invariata anche durante la crisi energetica, quindi è rimasta sempre il 10%. Non è stata abbassata come è stato fatto per il gas, che poi adesso è stata ripristinata ai vecchi livelli. Quindi il gas, altro capitolo, magari lo affronteremo anche, perché ha in generato un po' confusione, si è parlato dell'IVA aumentata, discesa, per l'energia elettrica è rimasto invariato. Assolutamente invariato. Andiamo a vedere un'altra cosa interessante, che è la spesa per la materia e energia. E qui sta il nucleo determinante di come ci sono i nostri comportamenti, insomma, giusto? Allora, molto spesso uno riceve un'offerta in cui c'è, che ne so, dico una cifra a caso adesso, 10 centesimi a kilowatt e si aspetta che il numero di kilowatt consumati in quel mese o moltiplicati per 10 centesimi faccia la spesa per la materia prima energia. In realtà non è così, perché come vedete da questa tabella, la spesa per la materia e energia ricomprende, come ho detto prima, una serie di voci molto complesse che sottostanno, quindi c'è, sì, c'è l'energia consumata a 10 centesimi, però c'è anche le perdite di rete che sono previste dall'autorità per l'energia, che sono pari al 10% della materia consumata, dell'energia elettrica consumata, perché il sistema ha calcolato che per trasportare un kilowatt dalla centrale fino a casa nostra ci sia un 10% di energia che va dispersa. Dobbiamo pagare noi. Sì, questa è proprio una regola e quindi se noi consumiamo 100 kilowatt alla fine ne pagheremo 110. Poi c'è un'altra voce... Anche se non dipende, l'utente finale non ha colpa né pena, perché dovrebbe pagare... Assolutamente. No, 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 c'è anche una regola. Questa è una regola creata dall'uomo, dice, secondo me io per consegnare a casa tua un kilowatt ne disperdo 0,1, lo paghi. Ah, va bene. Ecco, questo... Cos'è che c'è questo qua? Dice energia attiva più energia reattiva. Allora, l'energia attiva è quella che consumiamo per i nostri elettodomestici. L'energia reattiva ha un'altra piccola particolarità che comunque hanno di solito gli artigiani o le piccole e medie imprese. Nel momento in cui un macchinario assorbe energia per funzionare, se il macchinario ha una piccola difettosità, ne assorbe, assorbe dell'energia, poi ne respinge una parte nella rete. Ah. Anche quella va pagata. Perché è una... Anche se la rimetti in più. La rimetti in più, ne fanno pagare anche lì solo una parte, ma per esempio un artigiano, un carrozziere, chi utilizza molta energia, un tipografo, dovrebbe verificare, nelle ultime 12 bollette dell'ultimo anno, vedere a quanto incide questa energia reattiva. Molto spesso sono cifre molto basse, però ci sono alcune che hanno delle grosse anomalie sui macchinari e non si rendono conto che hanno una grossa componente di energia reattiva che pagano come se l'avessero consumata. In realtà l'hanno prelevata e respinta. Spero di essermi riuscito a spiegare. Sì, ma sto pensando, questo è solo per i professioni partiteiva, però vale? Sì, è difficile che una famiglia abbia energia reattiva, perché qua stiamo parlando di grossi consumi. A quel punto, una volta fatto il calcolo dei 12 mesi, se vediamo che c'è una voce importante di energia reattiva, basta chiamare il nostro elettricista, ci sono degli stabilizzatori di voltaggio, di tensione e si può eliminare l'energia reattiva con una spesa, dovrebbe costare circa un migliaio di euro, ma può essere un investimento per il futuro. Questa è l'energia reattiva. Quindi l'energia reattiva non è un fisso? No. Perché il perdita di rete mi pare di aver capito è un fisso. Sì. Mentre l'energia reattiva può essere che tu ce l'abbia, bassa, non ce l'abbia, oppure ce l'abbia alta, se c'è un problema al macchinario, al rilevatore. Molto spesso ci sono aziende metalmeccaniche che hanno molti macchinari, magari anche leggermente datati o non modernizzati, hanno questa voce, questa componente. Certo. Questo è da verificare, perché poi è molto semplice, perché c'è scritto, c'è materia prima, diciamo, c'è la perdita di rete, poi se c'è, se c'è l'energia reattiva andrebbe verificata. Quindi tutte le partite IVA che ci ascoltano, so che ci sono tanti anche imprenditori o titolari di negozi o che hanno attività, tengano conto anche di questo aspetto, energia reattiva. Poi c'è il costo di commercializzazione e vendita, in forma fissa oppure variabile. Questo è un altro costo. Adesso le scorro velocemente, altrimenti finiamo tra due giorni. Allora, questo è quello che vedete nelle offerte che si vedono anche in televisione, in cui c'è il prezzo del chilo va a 10 centesimi e poi ci sono 144 euro all'anno diviso 12 mesi. Questo è il costo di commercializzazione. È un canone previsto dall'autorità per l'energia che ha una base fissa intorno ai 90 euro e, come dire, le società sono libere di proporre qualche euro in più che può andare a coprire i costi di struttura, il costo del servizio clienti e cose varie. Quindi anche quello va guardato molto bene. È comunque previsto dall'autorità dell'energia. Poi ci sono tutti i costi di spacciamento, di bisbilanciamento, lot profile, incapacity market, che sono piccole quote, sempre legate al consumo, che riguardano tutto quello che riguarda il sistema elettrico, in questo caso, la gestione dell'alta tensione, della media tensione, dell'infrastruttura, quale è eterna, sono quei grossi piloni che vediamo lungo l'autostrada che trasportano l'alta tensione. In base ai consumi nazionali, queste quote vanno ad alimentare e a coprire i costi di struttura dell'intero territorio nazionale. Quindi il costo per materia prima non è banalmente il kilowatt per il numero di kilowatt consumati, ma contiene una serie di voci molto complesse. Infatti, che però, anche queste, non necessariamente sono tutte fisse, perché quando ho parlato di energia reattiva, non necessariamente è fissa. Leggo un messaggio, che previsione c'è sugli aumenti dell'energia? Restiamo così o c'è il rischio di peggiorare? Grazie. Allora, il mercato è sempre sull'attenti, c'è una condizione adesso abbastanza stabile, negli ultimi giorni sono saliti leggermente i prezzi, ma parliamo di percentuali meno del 5%, e possono essere solo temporane. La parte estiva dovrebbe passare serena, perlomeno per il gas, anche perché non lo usiamo. L'energia elettrica avrà delle variazioni, rimane nei mercati internazionali una sorta di incertezza per la situazione geopolitica che abbiamo, insomma, c'è poco da dire. Perché comunque l'Europa ancora ha 15% di forniture provenienti dalla Russia. il mercato europeo è abbastanza coperto, ci vorrebbe la sfera di cristallo, però bisogna sempre fare grande attenzione, perché la crisi energetica ce la siamo già dimenticata, quella di prezzo, che è durata comunque 18 mesi, potrebbe tornare come non potrebbe tornare, chi lo sa. Per ora, come dire, abbiamo qualche mese di respiro. Io invito tutti, all'alba di dopo agosto, ai primi di settembre, di informarsi delle quotazioni del periodo, quindi il prossimo settembre, di cercare di capire che andamento hanno. Per magari o scegliere un prezzo fisso, oppure dire dai, rischio e mi tengo il prezzo indicizzato e seguo il mercato. Certo. Comunque sempre grande attenzione a come si utilizza l'energia, perché insomma... Allora, buongiorno, volevo chiedere se esiste una piccola assicurazione che ci cauteli su possibili aumenti, soprattutto nel periodo invernale, scrive Anna. Assolutamente no, nessuna compagnia assicurativa accetterebbe mai una polizza del genere. Un rischio di questo, neanche per le aziende, credo. Allora, torniamo a noi, andiamo a vedere sempre questo dettaglio delle bollette, che avete visto, non è così banale, anzi mi dicono che prima andiamo in pubblicità, poi arriviamo a parlare anche della spesa per il trasporto, la gestione del contatore, insomma ci sono tante piccole curiosità interessanti. Allora, facciamo così, andiamo in pubblicità, state sempre con noi sul canale 19 e dopo torniamo sempre con Filippo Agostini.